Martedì prossimo mi recherò ad Assisi per l'incontro di Preghiera per la Pace, a trent'anni da quello storico convocato da San Giovanni Paolo II. Invito le parrocchie, le associazioni ecclesiali e i singoli fideli di tutto il mondo a vivere quel giorno come una giornata di preghiera per la pace. Oggi, più di mai, abbiamo bisogno di pace in questa guerra dappertutto nel mondo. Preghiamo per la pace. Sull'esempio di San Francesco, uomo di fraternità e demittezza, siamo tutti chiamati ad offrire al mondo una forte testimonianza del nostro comune impegno per la pace e la riconciliazione tra i popoli. Così, martedì, tutti uniti in preghiera. Ognuno prenda un tempo, quello che può, ma pregare per la pace. Tutto il mondo è unito. Ognuno prenda un tempo, quello che può, ma pregare per la pace. Ognuno prenda un tempo, quello che può, ma pregare per la pace. Ognuno prenda un tempo, quello che può, ma pregare per la pace.